Capitolo 3 Marzo Quaglie ai petali di rosa Ingredienti 12 rose, possibilmente rosse 12 castagne 2 cucchiai di burro 2 cucchiai di fecola di mais 2 gocce di essenza di rose 2 cucchiai di semi di anice 2 cucchiai di miele 2 spicchi d'aglio 6 quaglie 1 pitaia Un fiore bianco Dà l'intenso profumo simile a quello della vaniglia Preparazione Si staccano con grande attenzione i petali delle rose Stando attenti a non pungersi le dita Perché a parte il forte dolore causato dalla spina I petali possono rimanere impregnati di sangue E questo, oltre ad alterare il sapore della pietanza Può provocare reazioni chimiche addirittura pericolose Ma tita era incapace di ricordare questo piccolo dettaglio Di fronte all'immensa emozione che aveva provato Nel ricevere un mazzo di rose dalle mani di Pedro Era la prima emozione profonda che sentiva Dal giorno delle nozze della sorella Quando aveva ricevuto la dichiarazione d'amore di Pedro Cercando di nascondere il suo turbamento agli occhi degli altri Mamma Elena, con la prontezza e la prespicacia di cui era dotata Sospettava quello che sarebbe potuto capitare Se Pedro e Tita avessero avuto l'occasione di rimanere soli Quindi, esibendosi in stupefacenti giochi di prestigio Era riuscita fino ad allora a tenerli lontani E a nascondere l'uno agli occhi dell'altro Ma un minuscolo dettaglio l'era sfuggito Alla morte di Natcha, tra tutte le donne della casa Tita era la più adatta a occupare il posto vacante in cucina Dove sfuggivano al suo rigoroso controllo I sapori, gli odori, gli ingredienti e i loro eventuali effetti Tita era l'ultimo anello di una catena di cuoche Che fin dall'epoca pre-ispanica si erano trasmesse Di generazione in generazione i segreti della cucina E veniva considerata la miglior esponente di un'arte meravigliosa L'arte culinaria La sua nomina come cuoca ufficiale Fu quindi bene accolta da tutti nella fattoria Tita accettò l'incarico volontieri Nonostante il dolore che provava per l'assenza di Natcha Purtroppo la sua morte aveva causato a Tita una forte depressione Natcha morendo l'aveva lasciata molto sola Era come se fosse morta la sua vera madre Pedro nel tentativo di aiutarla a farsi forza Pensò che sarebbe stato un pensiero gentile Portarle un mazzo di rose in occasione del suo primo anniversario Come cuoca della fattoria Ma Rosaura, che era in attesa del primo figlio Non era dello stesso parere E appena lo vide entrare con il mazzo di rose in mano E poi darlo a Tita invece che a lei Lasciò la sala in preda a un attacco di pianto Mamma Elena con una sola occhiata ordinò a Tita di uscire dalla sala E di far sparire le rose Pedro si rese conto troppo tardi di essere stato imprudente Tuttavia mamma Elena, lanciando anche a lui un'occhiata Gli fece sapere che poteva ancora rimediare al danno E così, scusandosi, andò in cerca di Rosaura Tita stringeva così forte le rose al seno Che queste, inizialmente Rosa, quando arrivò in cucina da Rosa Erano diventate rosse per il sangue delle sue mani e del suo petto Doveva decidere rapidamente che cosa farne Erano così belle, non poteva gettarle nella spazzatura In primo luogo perché non aveva mai ricevuto dei fiori E in secondo luogo perché venivano da Pedro All'improvviso udì con chiarezza la voce di Nacia Che le suggeriva una ricetta preispanica Nella quale si potevano utilizzare petali di rosa Tita l'aveva quasi dimenticata Poiché l'ingrediente principale era la carne di fagiano E nella fattoria non si erano mai preoccupati di allevare quella specie di volatili Al momento c'erano soltanto quaglie E decise dunque di variare leggermente la ricetta per poter utilizzare i fiori Senza pensarci due volte Uscì in cortile e si mise a inseguire le quaglie Dopo averne catturate sei le portò in cucina E si accinse ad ucciderle Impresa per niente facile dopo che per tanto tempo le aveva allevate e nutrite Fece un profondo sospiro e afferrata la prima le torse il collo Come tante volte aveva visto fare a Nacia Ma lo fece con così poca forza che purtroppo la povera quaglia Invece di morire si mise a camminare per tutta la cucina con la testa ciondoloni Quella vista la fece inorridire Capì che non si può essere deboli quando si uccidono gli animali O si procede con decisione O si causa soltanto un gran dolore In quel momento pensò come sarebbe stato bello avere la forza di mamma Elena Lei ammazzava così con un colpo Senza pietà Beh a pensarci bene forse no Con lei aveva fatto un'eccezione Aveva cominciato a ucciderla da bambina poco a poco E ancora non le aveva sferrato il colpo definitivo Le nozze di Pedro e Rosaura l'avevano ridotta come la quaglia Con la testa e l'anima spezzata E prima di far provare alla quaglia i suoi stessi dolori Con un gesto di pietà e con grande decisione La finì rapidamente Con le altre tutto fu più facile Cercava soltanto di immaginare che ogni quaglia fosse andato di traverso nel gozzo Un uovo alla cocca E che lei la dovesse pietosamente liberare da quel martirio Dandole un bello strattone Da bambina molte volte aveva desiderato morire Piuttosto che far colazione con il solito obbligatorio uovo alla cocca Mamma Elena la costringeva a mangiarlo Lei sentiva che lo stomaco le si chiudeva completamente Incapace di ricevere alcun alimento Finché sua madre le dava una scrollata Che aveva il miracoloso effetto di scioglierle il nodo alla gola E di farla deglutire senza alcun problema Ora si sentiva più tranquilla E i passi successivi li avrebbe realizzati con grande abilità Sembrava che fosse la stessa maccia A compiere nel corpo di Tita Queste azioni Spennare i volatili senza acqua Togliere loro le viscere E farli rosolare Le quaglie Alle quali vanno raccolte e legate le zampe Affinché mantengano un aspetto grazioso Dopo essere state spennate ed eviscerate Devono essere rosolate nel burro con un pizzico di pepe e di sale E' importante che le quaglie vengano spennate a secco Perché non appena vengono immerse nell'acqua bollente Si altera il sapore della loro carne Questo è uno degli innumerevoli segreti di cucina Che si acquisiscono solo con la pratica Siccome Rosaura non aveva voluto partecipare Alle attività culinarie Da quando si era bruciata le mani sul comal Logicamente ignorava questo e molti altri accorgimenti gastronomici E tuttavia forse per voler impressionare suo marito Pedro O per rivalità nei confronti di Tita Una volta cercò di cucinare Quando Tita volle gentilmente darle qualche consiglio Rosaura si seccò Esageratamente le disse che voleva rimanere da sola in cucina Ovviamente il riso riuscì spappolato La carne troppo salata E il dolce bruciato Nessuno a tavola usò fare un cenno di disappunto Perché mamma Elena aveva commentato Beh, è la prima volta che Rosaura fa da mangiare E mi sembra che non l'abbia fatto male Lei cosa ne dice, Pedro? Pedro, facendo uno sforzo immane Rispose senza osare umiliare la moglie No, per essere la prima volta Naturalmente non è poi così male Naturalmente quel pomeriggio Tutta la famiglia ebbe disturbi di stomaco Fu una vera tragedia Ma certamente non così grande Come quella che scoppiò quel giorno nella fattoria La miscela di sangue e di tita con i petali di rose Che Pedro le aveva regalato Si rivelò fortemente esplosiva Quando si sedettero a tavola L'ambiente era leggermente teso E non cambiò fino all'arrivo delle quaglie Pedro, non contento di aver fatto ingelosire la moglie Senza riuscire a trattenersi Gustando il primo boccone della pietanza Esclamò, chiudendo gli occhi Con espressione davvero lussuriosa Questo è il cibo degli dèi Mamma Elena Sebbene riconoscesse Che si trattava di un intingolo Veramente squisito Infastidita da quel commento Replicò C'è troppo sale Rosaura Adducendo nausea ai capogiri Non poté mangiare che tre bocconi A Gertrudis invece Capitò qualcosa di strano Pareva che il cibo ingerito Le producesse un effetto afrodisiaco Perché cominciò a sentire un intenso calore Che le invadeva le gambe Un solletico al centro del suo corpo Non le consentiva di rimanere Correttamente seduta sulla sedia Cominciò a sudare e immaginarsi a cavallo Abbracciata a uno dei viglistas I seguaci di Panciovilla Che la settimana precedente Aveva visto entrare nella piazza del paese E che odorava di sudore, di terra Di molti domani pericolosi e incerti Di vita e di morte Stava andando al mercato In compagnia della serva Cencia Quando lo aveva visto entrare Dalla via principale di Piedras Negras E avanzare davanti a tutti Chiaramente al comando della truppa I loro sguardi si incrociarono E ciò che Gertrudis vide Negli occhi di lui La fece tremare Vide che passava le sue numerose notti Accanto al fuoco Desiderando la compagnia Di una donna da baciare Una donna da abbracciare Una donna come lei Tiro fuori un fazzoletto E cercò di fare in modo che con il sudore Se ne andasse dalla sua mente Anche tutta quella serie di pensieri Peccaminosi Ma era tutto inutile Le accadeva qualcosa di strano Tentò di cercare sostegno in tita Ma quest'ultima era assente Il suo corpo a dire il vero Era seduto molto correttamente Sulla sedia Ma gli occhi non davano alcun cenno di vita Pareva che per uno strano fenomeno di alchimia Il suo essere si fosse dissolto Nella salsa di rose Nelle quaglie Nel vino In ogni odore di quel cibo In questo modo Penetrava nel corpo di Pedro Voluttuosa Aromatica Ardente Assolutamente sensuale Era come se avessero scoperto Un nuovo codice di comunicazione In cui tita era l'emittente Pedro il destinatario E Gertrudis la fortunata Nella quale si creava Grazie al cibo La sintesi di questo Singolare Rapporto sessuale Pedro non oppose resistenza La lasciò entrare Fin nell'ultima piega Del suo essere Senza distogliare lo sguardo da lei Le disse Non avevo mai gustato Una cosa così squisita Molte gratte Il fatto è Che questa pietanza È davvero deliziosa Le rose Le conferiscono Un sapore delicatissimo Una volta staccati I petali Si pestano nel mortaio Con l'anice Separatamente Si fanno dorare Le castagne sul comal Si sbucciano E si fanno bollire Per poi farne un purè Si rosola l'aglio Nel burro Dopo averlo tritato finemente E quando è miondito Si uniscono Il purè di castagne Il miele I petali di rosa E sale a piacere Per rendere più densa la salsa Si possono aggiungere Due cucchiai di fecola di mais E infine La si passa al setaccio E si aggiungono Due gocce di essenza di rose Non di più Altrimenti c'è il rischio Che la salsa diventi Troppo aromatica E troppo saporita Appena fatto questo La si ritira dal fornello Le quaglie si fanno insaporire Nella salsa Soltanto per dieci minuti E poi si tolgono L'aroma dell'essenza di rose È così penetrante Che il mortaio Usato per pestare i petali Ne rimane impregnato Per parecchi giorni Il compito di lavarlo Insieme agli altri utensili Di in cucina Toccava a Gertrudis Questa incombenza La sbrigava in cortile Dopo aver mangiato Così ne approfittava Per buttare le bestie E gli avanzi di cibo Rimasti nelle pentole Inoltre Poiché Gli utensili di cucina Erano Ingombranti Li puliva meglio Nell'avattoio Ma il giorno Delle quaglie Non lo fece E chiese a Tita Di sostituirla Gertrudis in realtà Non si sentiva bene E sudava copiosamente In tutto il corpo Le gocce del suo sudore Erano rosa E avevano un gradevole E penetrante Profumo di rose Provò un impellente Bisogno di fare una doccia E corse a prepararsela Nella parte posteriore Del cortile Vicino ai recinti E al granaio Mamma Elena Aveva fatto installare Una rudimentale doccia Si trattava di uno stanzino Costruito con delle assi Ma le fessure Erano così ampie Da permettere Di vedere facilmente Chi si stava lavando Era comunque La prima doccia Di cui si ebbe notizia In paese L'aveva inventata Un cugino di mamma Elena Che viveva a San Antonio In Texas Aveva un serbatoio Con una capacità Di una quarantina di litri Posto circa A due metri di altezza Che bisognava riempire D'acqua in anticipo Perché potesse funzionare Con la forza di gravità Non era facile Salire con i secchi d'acqua Per la scala di legno Ma poi era un piacere Aprire un semplice rubinetto E sentir scorrere l'acqua Lungo tutto il corpo In una sola volta E non a intervalli Come accadeva Quando ci si lavava Con la brocca Anni dopo I gringo scomperarono L'idea del rinfrescante bagno Che l'aspettava Ma purtroppo Non lo poteva godere Perché le gocce Che cadevano dalla doccia Non facevano in tempo A toccarle la pelle Evaporavano ancora Prima di sfiorarla Il calore emanato Dal suo corpo Era così intenso Che le assi Incominciarono A crepitare E a bruciare Colta dal panico Di morire carbonizzata Tra le fiamme Si precipitò fuori Dallo stanzino Così com'era Completamente nuda Nel frattempo L'odore di rose Che emanava dal suo corpo Era arrivato Molto molto lontano Fino alla periferia Del paese Dove rivoluzionari E federali Erano impegnati In una cruenta battaglia Tra di loro Spiccava per coraggio Proprio quel viglista Che la settimana Prima era entrato A Piedras Negras E in cui Gertrudis Si era imbattuta Attraversando la piazza Una nuvola rosa Arrivò fino a lui Lo avvolse E lo fece partire Al galoppo Verso la fattoria Di mamma Elena Juan Così si chiamava Quel personaggio Abbandonò Il campo di battaglia Senza sapere il perché Lasciandosi alle spalle Un nemico mezzo morto Una forza superiore Guidava le sue azioni Era spinto Dal potente impulso Di arrivare Quanto prima A imbattersi In qualcosa Di sconosciuto In un luogo indefinito Non gli fu difficile Trovarlo Lo guidava All'odore Del corpo Di Gertrudis Giunse appena In tempo Per vederla Correre in mezzo I campi Allora seppe La perfezione del suo corpo immacolato e virginale contrastavano con la passione e la lussuria che le uscivano impetuosamente dagli occhi e da tutti i pori della pelle. Questi elementi, uniti al desiderio sessuale che Juan aveva soffocato così a lungo mentre combatteva nella sierra, resero il loro incontro spettacolare. Senza smettere di galoppare per non perdere tempo, Juan si piegò, la ferrò per la vita, la hissò sul cavallo facendo la sedere di fronte a lui e se la portò via. Il cavallo, quasi seguisse anche lui ordini superiori, continuò a galoppare come se conoscesse perfettamente la meta finale, nonostante Juan avesse lasciato le redini per poter abbracciare e baciare Gertrudis appassionatamente. Il movimento del cavallo si confondeva con quello dei loro corpi mentre eseguivano il loro primo amplesso al gran galoppo in una situazione di notevole difficoltà. Tutto si svolse così velocemente che la scorta partita all'inseguimento di Juan non riuscì a trovarlo. I soldati tornarono indietro delusi e nel loro rapporto dissero che il capitano era improvvisamente impazzito durante la battaglia e che per questo motivo era da considerare un disertore. Generalmente la storia si scrive attraverso le versioni dei testimoni oculari che non sempre corrispondono alla realtà, infatti il punto di vista di Tita sull'accaduto era completamente diverso da quello dei rivoluzionari. Lei aveva osservato tutto dal cortile dove stava lavando le stoviglie, non perse neppure un particolare nonostante la visione fosse disturbata da una nuvola di vapore rosa e dalle fiamme dello stanzino da bagno. Anche Pedro al suo fianco ebbe la fortuna di contemplare lo spettacolo perché era uscito in cortile a prendere la bicicletta per fare una passeggiata e come muti spettatori di un film Pedro e Tita si emozionarono fino alle lacrime vedendo i loro eroi realizzare l'amore a loro proibito. Ci fu un momento solo un attimo in cui Pedro avrebbe potuto cambiare il corso della storia. Prendendo Tita per mano riuscì a dire «Tita, solamente questo». Non ebbe tempo di dire altro. La sporca realtà glielo impedì. Si dio un grido di mamma Elena che chiedeva che cosa stesse accadendo in cortile. Se Pedro avesse chiesto a Tita di fuggire con lui, Tita non ci avrebbe pensato due volte, ma non lo fece. Inforcò invece la bicicletta in gran fretta e andò via pedalando la sua rabbia. Non poteva cancellare dalla mente l'immagine di Gertrudis che correva per i campi completamente nuda. I suoi grandi seni che ondeggiavano di qua e di là l'avevano ipnotizzato. Non aveva mai visto una donna nuda. Nei momenti di intimità con Rosaura non aveva mai sentito il desiderio di guardarle il corpo né di accarezzarglielo. In queste circostanze usavano sempre il lenzuolo nuziale che lasciava scoperte soltanto le parti nobili della moglie. Finito l'atto si allontanava dalla camera prima che lei si scoprisse. Adesso invece si era addestata in lui la curiosità di ammirare Tita così, senza vestiti, a lungo, indagare, annusare, cercare com'era fino all'ultimo centimetro di pelle del suo corpo, monumentale e attraente. Sicuramente assomigliava a quello di Gertrudis, non per niente erano sorelle. L'unica parte del corpo di Tita che conosceva molto bene, oltre la faccia e le mani, era il polpaccio tornito che una volta era riuscito a vederle. Quel ricordo lo tormentava ogni notte. Che voglia aveva di mettere la mano su quella parte di pelle e poi per tutto il corpo, così come aveva visto fare all'uomo che aveva rapito Gertrudis. Sfrenatamente, con passione, con lussuria. Tita da parte sua tentò di gridare a Pedro, di aspettarla, di portarsela via lontano in un luogo dove potessero amarsi, dove non avessero ancora inventato regole da seguire o da rispettare, dove non ci fosse sua madre. Ma dalla sua gola non uscì alcun suono. Invece di uscire, le parole si aggrovigliarono e si soffocarono tra loro. Si sentiva così sola e abbandonata. Un peperone in salsa di noce, dimenticato su di un vassoio dopo un gran banchetto, non si sarebbe sentito peggio di lei. Quante volte, sola in cucina, aveva dovuto mangiare una di quelle delizie per evitare che venisse buttata via. Il fatto che nessuno mangi l'ultimo peperone di un vassoio si verifica generalmente quando la gente non vuole mostrarsi golosa e sebbene abbia una gran voglia di divorarlo non ne trova il coraggio. Ed è così che si rinuncia a un peperone ripieno che contiene tutti i sapori possibili, la dolcezza del cedro candito, il piccante del peperoncino, la delicatezza della salsa di noci, la freschezza della melagrana, un meraviglioso peperone in salsa di noci che racchiude dentro di sé tutti i segreti dell'amore ma che per pudore nessuno mai scoprirà. Maledetto pudore! Maledetto manuale di Galateo del Carregno! Per colpa sua il corpo di Tita era destinato ad avvizzire a poco a poco, inesorabilmente. E maledetto Pedro, così perbene, così corretto, così virile, così amato! Se in quel momento Tita avesse saputo che non sarebbero dovuti passare molti anni prima che il suo corpo conoscesse l'amore non si sarebbe disperata così tanto. Il secondo grido di mamma Elena interruppe le sue fantasticherie e le fece cercare rapidamente una spiegazione. Non sapeva cosa dire alla mamma. Era in dubbio se cominciare a dire che la parte posteriore del cortile era andata in fiamme o comunicare che Gertrudis se n'era andata con un viglista a cavallo, nuda. Si decise a dare una versione secondo la quale i federali, che Tita odiava, erano entrati in cortile, avevano incendiato i bagni e si erano portati via Gertrudis. Mamma Elena credette a tutta la storia e si ammalò di dolore, ma rischiò di morire quando apprese da padre Ignacio, il parroco del paese, chissà come lo aveva saputo, che Gertrudis lavorava in un bordello della frontiera. Proibì rigorosamente di pronunciare da allora il nome della figlia e ne fece bruciare le foto e l'atto di battesimo. Tuttavia né il fuoco né il passare degli anni hanno cancellato il penetrante odore di rose che impregna il luogo dove un tempo si trovava la doccia e dove oggi c'è l'autorimessa di un condominio. E neppure nella mente di Pedro e Tita si sono cancellate le immagini che videro e che li segnarono per sempre. A quel giorno le quaglie e i petali di rosa si trasformarono nel muto ricordo di quella affascinante esperienza. Tita le preparava tutti gli anni come offerta alla libertà raggiunta dalla sorella e nel decorare le quaglie vi metteva uno speciale impegno. Le quaglie vanno prima disposte su di un grande piatto, poi si ricoprono con la salsa e si decorano mettendo in centro una rosa e intorno tanti petali. Invece di usare quello grande si possono servire anche su piatti singoli. Tita preferiva questo secondo sistema perché così non c'era il pericolo che nel servire la quaglia la decorazione si rovinasse e lo specificò chiaramente nel libro di cucina che incominciò a scrivere quella stessa notte dopo aver fatto come ogni giorno un bel pezzo della sua coperta. Mentre lavorava maglia le girava e rigirava per la mente la visione di Gertrudis che correva per i campi assieme a un'altra che ne era la continuazione e che poteva solo immaginare avendo perso di vista sua sorella. È ovvio che sotto questo aspetto mancando di esperienza la sua immaginazione era abbastanza limitata. Era curiosa di sapere se ora la sorella avesse qualcosa addosso o se fosse ancora così svestita. Si preoccupava che potesse avere freddo come lei ma concluse di no. La cosa più probabile era che si trovasse accanto al fuoco fra le braccia del suo uomo ed era questo in definitiva che assicurava calore. All'improvviso le passò per la mente un'idea che la spinse ad alzarsi per osservare il cielo stellato. Sapeva, perché l'aveva provato a sue spese, quanto potesse essere intenso il fuoco di uno sguardo. Può accendere persino il sole. Tita fece questa e altre considerazioni. Cosa sarebbe accaduto se Gertrudis avesse guardato una stella? Sicuramente il calore del suo corpo infiammato dall'amore avrebbe viaggiato con lo sguardo attraverso lo spazio infinito senza perdere energia per posarsi alla fine sulla stella prescelta. Questi grandi astri infatti sono sopravvissuti milioni di anni soltanto perché stanno molto attenti a non assorbire i raggi ardenti che gli amanti di tutto il mondo notte dopo notte mandano nella loro direzione. Se non fosse così, al loro interno si svilupperebbe un calore così forte che li farebbe esplodere in mille pezzi. Pertanto, quando uno sguardo li raggiunge, lo respingono immediatamente e lo riflettono sulla terra come in un gioco di specchi. È per questo che brillano tanto intensamente di notte. Ed è per questo che Tita sperava di riuscire a scoprire tra tutte le stelle del firmamento quella che aveva fissato la sorella per poter ricevere di riflesso un po' del calore che lei possedeva in eccesso. Beh, quello era il suo desiderio. Tuttavia, per quanto osservasse a una una tutte le stelle del cielo, non avvertì alcun calore, anzi le capitò il contrario. Intirizzita, se ne ritornò a letto, pienamente convinta che Gertrudis dormisse beatamente, con gli occhi ben chiusi e che solo per quel motivo l'esperimento non fosse riuscito. Si rifugiò sotto la coperta, che ormai riusciva a piegare tre volte, rilesse la ricetta che aveva scritto per vedere se non aveva dimenticato nulla e aggiunse, oggi, lo stesso giorno in cui abbiamo mangiato questa pietanza. Gertrudis è fuggita di casa. Continua. Prossima ricetta. Mole di tacchino con mandorle e sesamo.